Il Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza nell'ultimo anno ha compiuto 964 verifiche, riscontrando nelle attività imprenditoriali piecantine 461 posizioni irregolari, tra cui 266 lavoratori completamente in nero. La DTL ha presentato questa mattina il bilancio 2013 per voce del direttore Alberto Gardina. Sicuramente ci sono i settori della cooperazione, del facchinaggio, il settore dei pubblici esercizi, degli esercizi di ristorazione, del divertimento, ma ci sono tanti altri settori, penso anche al settore del giardinaggio, oppure abbiamo detto che un'attività interessata, la nostra attività, è stata quella anche dei servizi funebri. Gli ispettori hanno sospeso l'attività di 32 imprese, provvedimento che scatta quando oltre il 20% dei dipendenti è irregolare. Significativo recupero dei contributi dei premi assicurativi e vasi che ammonta 2.679.585 euro, mentre le sanzioni emesse hanno superato i 750.000 euro. Nel Mirino anche le cooperative. Su 46 ispezioni in 26 casi sono state riscontrate anomalie. Le denunce all'autorità giudiziaria sono state complessivamente 92, di cui 27 per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro guidato dal maresciallo capo Paolo Taurino ha condotto l'ispezione di 87 aziende. Nel corso di un'indagine su un cantiere di lavori pubblici piacentino sono stati denunciati sia il responsabile del procedimento che il procuratore della società, in quanto il lavoro è stato eseguito da imprese non autorizzate dal committente. Per loro è scattata una denuncia per abuso d'ufficio e falso ideologico. La DTL invita i cittadini a rivolgersi ai loro uffici per comunicare qualsiasi irregolarità. Ci sono delle persone, degli funzionari dell'amministrazione dello Stato che sono qua per ascoltarli, per ricevere le loro segnalazioni e a costo zero per loro, senza dover attivare nessuna procedura particolare, queste persone possono far loro recuperare dei soldi o dei contributi che non sono stati versati.